Finalmente torniamo indietro a casa con una vittoria, abbiamo sofferto tantissimo, una partita molto tirata, però era importante portare a casa tre punti, oggi li abbiamo portati a casa e sinceramente ho visto molti miglioramenti anche soprattutto all'aspetto della voglia e del carattere. Quindi faccio i complimenti alle ragazze, punto di partenza, adesso ci prepariamo per incontrare sicuramente la squadra più forte del campionato che è Piedra. Grazie.